Sì? Assolutamente no, però la passeggiata può sembrare da fuori, infatti la gara poi sono già dalle prime due tre vasche, avevo distacco, quindi può sembrare una passeggiata, il fatto è che io fino alla fine non volevo essere sicuro di vincere e quindi abbiamo accanto a dare il massimo alla fine, che per me è stata comunque dura, è stato un po' più incrementale, poi è andato tutto bene, quindi può sembrare una passeggiata, può essere veramente durissima, Quello è, il giorno di un impiede è così, non aspettabile, è stato un po' più bello. Eh beh, e abbiamo qui il papà che ricorda proprio quando è qui, no, è una volta con l'acqua di acqua, c'è l'acqua, 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 c'è l'acqua.